Oggi incontriamo Vulcan Italia. Parliamo con Diego Campisi, Sales Manager del settore Pleasure, un volto storico dell'azienda che ha ben 20 anni di esperienza nel settore della nautica. Diego, come nasce e come si sviluppa questa collaborazione con Azimut? Di fatto la collaborazione nasce quando la domanda incontra l'offerta ed è proprio quello che è successo con il cantiere Azimut. Vulcan ha realizzato un pacchetto di prodotti per offrire al cantiere delle soluzioni per l'abbattimento del rumore trasmesso per via strutturale. Valutiamo con il progettista quella che è la specifica costruttiva iniziale, collaboriamo con il cantiere per la definizione di quelli che sono i prodotti più idonei per l'applicazione specifica, realizziamo poi una sistemazione insieme del sistema, per arrivare poi infine alla fornitura vera e propria dell'intera soluzione con una supervisione in quella che è la fase installativa, ovvero andare a certificare in acqua con una prova mare quelli che sono i risultati raggiunti. Qui al Salone Nautico di Venezia, Azimut espone anche un'imbarcazione della tipologia come quella di Atlantis, molto più compatta. Ecco, Vulcan, rispetto a questo tipo di imbarcazione, che cosa propone per le soluzioni di cui stiamo parlando? Abbiamo iniziato circa 20 anni fa a realizzare dei giunti linea d'asse per l'imbarcazione dei 40 metri in su, realizzati proprio per il miglioramento del comfort a bordo. Il giunto Proflex, questo giunto linea d'asse posizionato tra l'invertitore e le linee d'asse, è un giunto che ha una componente in gomma al suo interno con delle boccole disposte da gera su un disco in metallo ed è proprio questa gomma che permette di creare una barriera a quelle che sono le vibrazioni trasmesse per via strutturale. Il mercato ha richiesto sempre di più requisiti di comfort sempre più elevati anche alle imbarcazioni più piccole e qui è nata l'idea di Vulcan di sviluppare questa nuova gamma, il Magiflex BT, che permette di arrivare a coprire imbarcazioni di 10-15 metri. In questo modo Vulcan riesce a coprire l'intera gamma partendo dai 10-15 metri fino ad arrivare alle grandi navi di 90 metri con il Proflex. Qui a Venezia in questi giorni si sta parlando molto della tecnologia elettrica e ibrida applicata al mondo della nautica. Azimut sicuramente va sempre di più in questa direzione e il Beyond è sicuramente una testimonianza importante di questo settore. Anche in questa tipologia di imbarcazione Vulcan ha già partecipato appunto in questa collaborazione con Azimut. Confermo ancora una volta come la mission di Vulcan sia proprio il comfort. Provo a immaginare di navigare su uno yacht propulso con motore elettrico e darò la sensazione di navigare a vela. Se non è comfort questo, Vulcan pochi mesi fa ha deciso di investire in questo nuovo settore ed è così nata la Vulcan Hybrid Architect. Una nuova divisione fatta di esperti che si pongono di fianco al cantiere come dei veri e propri consulenti per andare a definire insieme al cantiere quello che è la specifica tecnica, la soluzione tecnica che più si avvicina alla desiderata del cliente. Che cosa ci contraddistingue rispetto agli altri? Di fatto Vulcan non ha bandiere, marchi rappresentati che ci legano ad altri fornitori. Di volta in volta in questo modo ci possiamo porre al di sopra delle parti e avere la libertà di identificare quella che è la soluzione più idonea per ogni singolo progetto. È sicuramente un impegno più gravoso, più impegnativo, ma che in questo momento siamo gli unici a poter offrire e crediamo che questa sia la strada vincente.